Io penso che qui la terza ondata sia arrivata, perché comunque noi abbiamo dato tanto. Il Veneto sta attraversando la terza ondata di coronavirus per il picco esponenziale di contagi, per la mortalità e i parametri di ospedalizzazione in escalation in poco meno di un mese. Un'ondata, dice Zaia, che se fosse arrivata a febbraio avrebbe messo in ginocchio anche il Veneto. Noi abbiamo avuto una concentrazione di ricoveri e di mortalità su un brevissimo periodo, cosa che altri non hanno avuto. E questo è il tema dell'eccezionalità. Una ragione è questa per guardare con attenzione alla decisione di domani quando la nostra regione saprà se sarà diventata gialla o se sarà confermata arancione. Per noi la zona arancione è stata, come si può dire, prudenziale, ma non avente titolo, perché vi ricordo che noi non abbiamo mai avuto in questa seconda ondata, da quando sono state istituite le zone, un colore diverso dal giallo. Nessuna novità invece sul fronte ai vaccini con la speranza di tornare a regime con la prossima fornitura Pfizer che permetterà di allargare, Zaia se lo augura, anche lo spettro della prima vaccinazione alla popolazione. Noi diciamo ultra 80 anni ma abbiamo chiesto che si faccia ultra 75 anni, in maniera tale che lo spettro d'azione sia ancora più importante. Da qui, per accelerare la corsa contro il tempo, la disponibilità dichiarata dal governatore di molti imprenditori veneti pronti, pare, a fare la loro parte con l'aiuto della finanziaria regionale. Posso garantire che c'è chi è disponibile. Un passaggio poi sui tamponi fai da te e la sperimentazione del dottor Rigoli è ultimata. I dati a breve arriveranno a Roma. E sempre a Roma, Zaia oggi ha mandato un nuovo messaggio, anche alla luce delle dichiarazioni del premier Conte sulla riforma dell'articolo quinto della Costituzione. Che sia chiaro che noi non siamo messi a via, c'è appena finita l'emergenza, si sappia che noi torniamo in mimetica. Noi non siamo per la resa, per i casini, ma noi l'autonomia la vogliamo.